Ciao a tutti caccini e benvenuti in questo mio nuovo video Oggi siamo qui nel terzo episodio di Five Nights at Freddy's Help Wanted Scusate se la scorsa settimana non è uscito un episodio ma avevo un po' di cose da fare Quindi non sono riuscito a registrare Comunque oggi siamo tornati più forti che mai e andremo a fare qualche notte Come al solito vogliamo di salutare il nostro Spring Bonnie Oggi farei una Night of Terror e FNAF 3 Direi di iniziare con FNAF 3 perché mi sembra un po' più facile rispetto alle Night of Terror Quindi 3, 2, 1 Benissimo, patch button, le solite robe Ed eccoci qua, anche qua super realistico Sempre il telefono che parla Perché? No, non volevo i sottotitoli Vabbè, va bene comunque Quindi qua abbiamo tutto coso Tutto l'audio deve essere melata e varie E qua abbiamo tutto ciò che dobbiamo osservare Dobbiamo vedere dove è Spring, no? Io ho paura Voi lo vedete? Io no Boh, lo chiamiamo di qua Light Si accende la luce qua Ok, no, 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 si è mosso Non è qua però Dove sei Spring? Ma perché non lo vedo? Non mi ricorda niente di FNAF 3 Il FNAF che preferisco meno Uh, l'action figure Ah, ogni tanto devo ricaricare Luna di mattina intanto Speriamo non c'è attacchia Sono stanotte Lights Niente Cam 2 Niente Ma magari non c'è neanche Perché non lo vedo Vido error Mannaggia Come si fa Qui e poi qua Due di mattina Non so cosa fare Sinceramente Ah, qua tutte le cam Ecco perché magari non lo vedevamo Ora si vede No, cosa sto facendo? Tre di mattina E non sta succedendo niente Controllo ogni tanto qua Se c'è Ma cosa bisogna fare? Se c'è Non lo so Maschere Non ci sono Qua Si può aprire No Ah, la casetta Perfetto Chiamiamolo Nel dubbio Perché non so cosa fare Lo so che si dovrebbe ascoltare il tizio Ma non c'ho voglia Perciò Non lo ascoltiamo No, 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 no Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ventilation, ventilation Ricarica, ricarica Se non è poi Oh, no, la moneta C'era una moneta È sparita Nel nulla è sparita La moneta Non mi ispira fiducia Sta pizzeria Tutto bruciato Chiamiamolo qua No, video error, video error Non mi va bene questa cosa Ricarichiamo Secondo me anche c'è Stanotte veramente Ok, appunto Se di mattina Sto registrando da 5 minuti La prima notte è passata Velocissima Direi di fare anche Tre notti di qualcosa Ovviamente il solito regalino Che oggi 25 gennaio È il mio compleanno Perciò Vediamo cosa mi ha regalato Five Nights at Freddy's Per il mio compleanno Che figo Peluche GC Che ha gigante Non posso mangiarlo Comunque facciamoci un selfie Perché è troppo bella Così Perfetto Selfie fatto Adesso Lanciamola Ma Cioè Rimbalza pure È come un peluche Vabbè Non facciamoci troppe domande E andiamo avanti Qua Spring Bonnie È sparito Perciò direi di andare a fare le Night of Terror Funtime Freddy Io ho veramente paura di sta roba Flashlight Teleport Mi devo teletrasportare Close door Spray fino alle 6 di mattina Non mi ispira Ok ragazzi Io qua Mi prenderò Infarti No Cos'è sta roba? Cosa devo fare? Controllare dov'è? Aspetta che alzo un po' il volume Così Prendo un po' più infarti Come mi muovo? Magari non devo muovermi? Oh Cosa si è mosso? Bombon Stai fermo No 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 L'ho sentito L'ho sentito No 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 Dov'è? Dov'è? Io qua mi prendo un infarto Ma perché non posso muovermi? Non so come muovermi No no Io qua muoio Bombon vai via Ma veramente Ma Ah Ok Non sapevo come fare Adesso me la studio un attimo E quando ho capito come si fa Registrerò Intanto vi faccio un mega timelapse di tutto Con una musichetta divertente Perché le musichette divertenti Sono la base della vita Benissimo Seconda morte Perché non ho capito come si gioca Per start Ok ho capito come ci si muove Con spazio Perché con spazio? Così si chiude la porta Vai via Vado nell'altra porta Vediamo Secondo me sta tecnica può funzionare Comunque non so perché state vedendo tutto a scatti Vedo che La registrazione ha 40 frame No buono Oh stiamo resistendo così l'una di mattina Vai via Oh sta tecnica sta funzionando eh Non so come mi è venuta in mente Allora se ne stanno alla larga Ma è perfetta Ve la consiglio Se avete sto gioco Non ve lo consiglio il gioco Perché vi prendete infarti Che è una meraviglia Cambiamo porta di nuovo perché Non mi fido quando parla Ah forse ho capito il funzionamento Quando bonbon è a sinistra Vuol dire che lui è a sinistra Può essere Cioè bonbon è quello blu Cioè sono due bonbon Non so come si Ecco due coloro E quello blu No io ho qua altre due ore Non ci resisto Ok lei è chiuso Vai via 5 del mattino Non ci credo Resistiamo ancora un'ora Resistiamo ancora un'ora Vi prego io non ce la faccio più Poco devo anche andare a cena 6 del mattino Non ci credo Perfetto ragazzi 6 del mattino Arrivate Secondo regalo del giorno Direi di aprirlo assolutamente Su giù Su giù Su giù Cosa troveremo? Ehm Ma è fantastico Anche con lei Un bel selfie E che pupazzo è Funtime Ehm Foxy Mi sembra Ehm Di lato pure Che visuale ragazzi Che visuale Ma io direi di continuare E andare a fare qualcos'altro Ovvero Fnaf o no Lo mettiamo da parte Per un bel po' di episodi E Darkrooms Anche no L'ultima volta Non è stato per niente bello Le ventreper Me li voglio ottenere Alla fine Direi di andarci a fare Un'altra parte In service Perché era molto carina Voglio vedere Con Chica Che già non mi ispira E già più vicina a Bonnie Ok Grab and release Smash buttons Make repair Un classico Io direi Oh ciao Cica Come stai Ok devo prendere tutto Il cibo E buttare Una cassetta Perfetto Quindi direi di iniziare Da questa Fetta di pizza Buttarla via Anche quest'altra Puliamola bene bene Cica Perché Cavoli E' sporca Di pizza Perfetto Ok Devo prenderti Poi gli insetti All'interno Della Sua testa Oh sento qualcosa Sento l'insetto Questo qua devo premere Perfetto Una moneta Prendila Devo riattaccarla A Chica Questa qua Chica Tieni Perfetto E Aspetta che io voglio prendere la moneta Perfetto Sono riuscito a prenderla E mettergli il Cupcake Ok Devo cliccare un'altra volta Penso Chica Sei tranquilla Andrà tutto bene Eh No E' scappato Dov'è 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 andato il bro Ok Vieni Ah Già fatto Che cavolata Sto cosa Ah Aspetta Cosa devo fare Mangiare un pezzo di pizza Ah No Mangia Mangia Perfetto Fatto Facilissimo Bellissimo Grande Chica Guarda qua quanto sei bella Sarà la copertina del video Palese E Claim your price Altro regalino Dai Un'altra Chica io vorrei E No Una Chica chug Vabbè C'entra sempre con Chica Mangiamoci la lattina Eh Si fa sentire l'inverno Comunque Essendo che ora abbiamo 8 monete Direi di andare di nuovo Al price counter Perché mi sembra che 8 monete si sblocchi Qualcosa di nuovo Appunto E Un bicchierino Da caffè Grazie ragazzi Io Amo i bicchierini da caffè Ogni giorno Bevo il caffè Da questi bicchierini Poi posso prendere le patatine Ah no È sempre la cassetta Oh è pieno di cassette Vediamo a quanto siamo Poi direi di farci Qualcos'altro Com'è che si prendeva Da qua Eccoci qua Ah Perfetto La 1 La 2 La 3 La 4 La 5 Siamo messi da dio Io direi Torniamo al menu Comunque Se questo video Riesce a raggiungere 15 Like Entro una settimana Porterò Due episodi alla settimana Di FNAF VR AR No Help Wanted Vabbè Ce sono un batto di FNAF E mi confondo Perciò Come direbbe un classico youtuber Spoliciato Tirate i pugni Sul pulsante Dei mi piace E scommetto Di avervi Fatto sanguinare Le orecchie Benissimo Cosa possiamo andare a fare Proviamo a fare quella Con Nightmare BB Un tentativo Vediamo come va questo Stop Bound Boy È sempre come Lo Spring Bonly Ah Ti dice pure lo Ciao Come stai Vai via Oddio No adesso pure parla Quindi ti fa prendere colpi Oh vai via Basta parlare 3 2 1 Hoppa Eh Ti ho beccato Allora 4 3 2 Andiamo al 2 Ah Mi fa prendere un colpo Sì Perfetto Una cavolata Più facile Di Springtrap Benissimo Velocissimo 4 regalini Oggi Che qualità Ragazzi Che content Questo E abbiamo Cos'è Cos'è Aspetta Esotic Esotic Butter Entità più forte del gioco Non ci credo La copertina di questo video Sarà assolutamente Chica Con l'esotic Butter Ok ragazzi Perciò Mangiamolo Torniamo al menu E direi Che ci possiamo Salutare qua Quest'oggi abbiamo fatto Un bel po' di roba Molto di fretta Infatti Sono Qua che registro Da solo 22 minuti Perciò Il video finisce Qui Spero vi sia Piaciuto Ovviamente Ricordatevi Di mettere like Iscrivervi al canale Attivare la campanellina E basta Queste qua Sono le cose principali Qua davanti Se mi ricordo Probabilmente no Vi metterò L'ultimo video Un video consigliato A caso Da youtube E l'icona Per iscriversi Al canale Noi ci vediamo Nel prossimo video E ciao ciao Caccini C'è 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 C'è